ciao a tutti sono roberto supernatulo a rigamonti direi che gli allenamenti procedono bene viaggio su due allenamenti al giorno ho scelto a due mesi della preparazione di passare un mese in thailandia col combat group di pattaglia e gli amici cristiano bellini e christian daghio appunto perché è un camp completo in cui ci si può allenare nelle varie discipline a tre ring e la gabbia insomma tutto quello che mi serve quindi direi che non potevo trovare di meglio poi per il resto come già sapete il mio avversario sarà jay mills o che mills o come lo volete chiamare comunque inglese ex atleta usc con un con un notevole score ha combattuto anche con roy madonna comunque uno striker come me e quindi ovviamente pronostici non se ne fanno però diciamo che sarà un match che farà scintille ciao agli amici di mma knock out un saluto ci vediamo presto ciao ciao